Voglio essere libero, libero come un uomo. Buonasera, per gli italiani, pensate, la patria della democrazia non è l'Italia, ma è il Canada, mentre la patria dell'antidemocrazia è la Cina. Ma questo dato potrebbe interessarci poco riguardo altri paesi. Il dato allarmante è invece che per 4 cittadini su 10, anzi per più di 4 cittadini su 10, in Italia non c'è democrazia e questo è sicuramente effetto delle politiche pubbliche messe in atto dal governo in carica. L'Italia tra i paesi che sono stati censiti, sono paesi di tutto il mondo, grossomodo è a metà classifica, non è certamente ai livelli del Messico, della Russia, della Turchia o altri, ma non è neanche ai livelli dell'Inghilterra, della Francia, della Germania o degli Stati Uniti che si trovano in una posizione migliore rispetto alla percezione che i cittadini hanno del livello di democrazia nei loro paesi. Il Canada, come dicevamo prima, è secondo gli italiani il paese in cui è più alto il livello di democrazia, è seguito dall'Inghilterra, poi la Francia, poi la Germania, poi gli Stati Uniti, poi l'Italia. Dopo l'Italia, nell'ordine che è stato creato da questa indagine statistica, c'è il Giappone, c'è l'Argentina, c'è il Brasile, c'è il Messico, l'India, la Russia, la Turchia, l'Egitto e per ultima la Cina. Ma è possibile che in un paese come il nostro, che è il paese di Beccaria, di Verri, che è il paese che ha conquistato la sua unità, che ha realizzato le grandi conquiste nel dopoguerra, che è riuscito a superare il secondo conflitto mondiale, che è riuscito ad affrontare la rinascita economica e a consolidarsi tra i primi otto paesi al mondo dal punto di vista economico. E così è un paese in cui i cittadini abbiano una così bassa percezione della democrazia. Io credo di sì, perché le ultime scelte, peraltro, che sono state compiute dal governo, sono scelte che vanno in direzione di una ridotta platea democratica, perché si riduce complessivamente la quantità di rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni. Non ci sono più le province, dunque non ci sono più i consiglieri provinciali, non c'è più il Senato eletto con elezioni di primo grado come c'era prima, ci sarà un Senato di eletti dagli consigli regionali e non dai cittadini. C'è una forte riduzione dei consiglieri di quartiere, c'è un taglio complessivo di quelli che sono gli organi di controllo e rispetto a questi temi è soltanto secondario il problema del loro costo, perché il loro costo potrebbe essere affrontato, la riduzione del loro costo potrebbe essere affrontato in maniera molto diversa da come si sta affrontando adesso. Il vero problema è invece la riduzione del livello di rappresentatività diretta che il popolo riesce a esprimere, perché non può più esprimere i senatori, non può più esprimere i consiglieri di quartiere, non può più esprimere i consiglieri provinciali. Negli organi di controllo la presenza diretta dei cittadini è molto bassa e dunque restringendo complessivamente la platea dei rappresentanti del popolo, naturalmente la percezione che i cittadini hanno della democrazia è una percezione che si va comprimendo. È come se stessimo lavando un indumento di lana che naturalmente se non è lavato con cura, se non è lavato come deve essere lavato, si restringe e si restringe addosso a chi lo indossa. Ebbene la sensazione che i cittadini italiani hanno della democrazia italiana alla luce di queste modifiche costituzionali molto paradossali e molto discutibili sul piano della rappresentatività dei cittadini è proprio che la democrazia si stia restringendo e gli si stia restringendo addosso. Speriamo che non soffochi nessuno. Buonasera. Voglio essere libero, libero come un uomo.